Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. In A1 verso Roma 2 km di coda per un incidente al km 266 in Galleria tra Albivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano. In direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. In A11 di Ramazione Lucca via Reggio e entrata chiusa a Lucca Ovest in direzione Lucca fino alle 19. A Firenze per l'emergenza Covid è stata sospesa la ZTL estiva notturna che sarebbe dovuta scattare da giovedì 1 aprile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze per l'emergenza Covid-19